Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la nuova maglia del Flamengo per la stagione 2023 in edizione FAN, la maglia dedicata ai tifosi. FAN, la maglia dedicata ai tifosi. Questa maglia è molto bella, nella mia classifica prende tre stelle, belli colori, una maglia con una grandissima tradizione e voglio dire di una qualità eccezionale. Qui in alto vedete il costo che per questa maglia è a dir poco imbarazzante, imbattibile. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Trovate anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare per comprare quello che volete. Ora prima di lasciarvi la parte finale mi raccomando lasciateci un grande like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.